Va ora in onda al culto evangelico valdese a cura del pastore Giuseppe Ficara Bentrovati e bentrovate a questo culto curato da Radio Bequita Evangelica Partecipiamo oggi insieme alla preghiera comune e all'ascolto della parola del Signore Sebbene ci troviamo in luoghi geografici diversi, ci rallegriamo per questa opportunità che Dio ci offre E ringraziamo anche tutti coloro che con il loro impegno l'hanno reso possibile Vi invito a raccoglierci insieme alla presenza del Signore Nel nome di Dio Padre che ci ha creati, che tiene noi e il mondo intero nelle sue mani Nel nome del Figlio che è venuto nel nostro mondo per riconciliarci con Dio Nel nome dello Spirito Santo che ci ricolma di vita eterna Ci unisce a tutti i credenti e ci rende operatori di pace Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo celebriamo insieme questo culto Amen Ascoltiamo alcuni versetti dal Salmo 80 Porgi orecchio, o pastore di Israele, che guidi il tuo popolo come un gregge Tu che siedi sopra i cherubini, far risplendere la tua gloria Rialzaci, o Dio dell'universo, far risplendere il tuo volto e noi saremo salvi Proteggi quello che tu stesso hai piantato e il germoglio che hai fatto crescere forte per te Mai più ci allontaneremo da te Facci rivivere e noi ti invocheremo per sempre Rialzaci, o Dio dell'universo, far risplendere il tuo volto e noi saremo salvi Vi invito a raccoglierci ora nella preghiera Dio di tutti e tutte Tu ci accogli sempre perché sei un Dio d'amore Ti avvicini sempre a noi Ci fai crescere Ci sostieni Sei il nostro pastore Tu hai a cuore le persone oppresse dalla violenza umana, dalla guerra, dalla fame, dalla sete Tu prendi sul serio le nostre preoccupazioni Sei vicino a tutti e tutte Vuoi essere il creatore che ridona il coraggio di vivere a coloro che l'hanno perso Ce lo hai dimostrato in Gesù che è morto e risorto per noi Sei sempre all'opera in modo incessante La tua opera porta frutto malgrado alle nostre opposizioni Anzi, tu ci apri la via del servizio e ci insegni a seminare la pace A seminare la giustizia, l'amore, anche se i frutti non saranno immediati Amen La tua opera è verità Signor di grazia e carità E la sua opera è verità Cari e care, vi invito ora a raccoglierci in preghiera, affinché il Signore disponga il nostro cuore e le nostre menti all'ascolto della Sua parola. Preghiamo. Signore, noi apriamo la scrittura e desideriamo ascoltare e capire. Illuminaci con il tuo Spirito perché ci conforti e ci trasformi. Ci aiuti ogni giorno a comprendere il senso di ciò che fai per noi. Te lo chiediamo nel nome di tuo Figlio Gesù, il Cristo. Amen. Ascoltiamo insieme il testo biblico per la predicazione che si trova nel libro del profeta Isaia, al capitolo 55, i versetti da 6 a 12. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotta a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli proromperanno in grida di gioia davanti a voi. Tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Il Signore voglia benedire la nostra lettura e il nostro ascolto della Sua parola. Amen. Cari e care, di fronte a tante sconfitte della vita, ci viene spontanea la domanda «Da che parte sta Dio?» Nelle nostre sconfitte e delusioni personali, familiari, di Chiesa, ma anche della società, in Italia, nel mondo. Quante volte ci domandiamo perché Dio permette le guerre, la violenza nei confronti di chi è indifeso, nei confronti di donne, bambini, anziani. E perché la Shoah? Come è potuto accadere tutto ciò? Perché le terranie di oggi? Perché la fame nel mondo? Perché la povertà? Cosa fa Dio? Il profeta Esaia, nel brano che abbiamo ascoltato, si rivolgeva a un popolo, Israele, sconfitto, presso, umiliato, deportato lontano dalla terra promessa da Dio, in una terra straniera, dove versava lacrime inconsolabili, perché all'interno del suo buio non vedeva nessuna via d'uscita, nessuna possibilità di riscatto. Ora il profeta è consapevole che la sconfitta del popolo è stata conseguente alla sua incredulità, quella del popolo, e cioè del suo ritenersi autosufficiente, al suo considerarsi forte e capace di raggiungere il suo obiettivo e la sua salvezza da solo. Ma non è così. Lo sappiamo tutti. Non ci si salva da soli. Non si esce da soli dalle sabbie mobili o da una fossa profonda. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di un riferimento oltre noi stessi, per orientarci verso un bene comune e non egoistico, un fondamento certo sul quale appoggiare i nostri piedi o costruire il nostro domani. Viviamo tutti in un mondo nel quale per vivere sono necessarie le relazioni, la condivisione, il sostegno, la protezione reciproci, il mutuo soccorso. E Isaia ci ricorda ancora oggi le sue parole. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così è la mia parola. Il profeta insiste nel considerare impellente un esame nostro introspettivo per scoprire di essere amati e sostenuti dal Signore che come una pioggia benefica bagna i campi dei nostri egoismi e fa crescere dei frutti nel deserto dei nostri cuori, nell'aridità delle nostre scelte fatte in solitudine, forse perché convinti che da soli possiamo ricavare di più. Come un tempo lontano, il profeta lancia anche a noi oggi una sfida, imparare a percepire la novità di Dio ogni giorno, un Dio che agisce nel mondo per realizzare il suo progetto, un progetto di fraternità, amicizia, pace, giustizia fra noi, sulla terra, fra i popoli. Il profeta è consapevole che la volontà di bene di Dio per il mondo, per tutti i popoli, passa attraverso ciascuno e ciascuna di noi, proprio come aveva detto ad Abramo. Abramo, in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere annaffiato la terra, così è la mia parola. Si tratta cioè di qualcosa di nuovo ogni giorno. È la novità di Dio. Dio affida la responsabilità della sua testimonianza a tutti e tutte noi. Noi siamo quella terra che riceve l'acqua e la neve e inevitabilmente porteranno il loro frutto, ciascuno a suo tempo. È la parola che ci cambia, che ci trasforma e ci rende come un giardino ben annaffiato, un orto che produce i suoi frutti, un luogo nel quale tutti trovano ristoro, conforto, sicurezza, accoglienza, condivisione, un luogo di riconciliazione e dal quale si può partire insieme per costruire e rendere tutta la terra uno spazio nel quale la pace sia il risultato della nostra autenticità, della nostra fedeltà. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere innaffiato la terra, così è la mia parola. Il messaggio del profeta Esaia rimane sempre vivo, oggi più che mai, perché è forte della promessa di Dio che invierà sempre per noi una parola che porterà i suoi frutti, proprio come la pioggia e la neve quando bagnano la terra. Certo, si tratta anche di una parola che mette in discussione tutti quei credenti che hanno smesso di pensare che Dio abbia a che fare con le nostre scelte, le nostre relazioni umane, i nostri rapporti con tutti e tutte, pensando come Israele dell'epoca del profeta, che la sicurezza possa trovarsi invece nel possesso di denaro o di investimenti per progettare il proprio futuro, oppure nel possesso di armi per difendersi da tutti i nemici. Il profeta vuole solo informarci che la nostra sicurezza non consiste in cose da possedere, cose materiali o anche virtuali, ma nell'ascolto reciproco della parola del Signore che ci pone di fronte non ciascuno al proprio interesse, che sia singolo, familiare o un interesse nazionale, ma di fronte a un interesse comune di tutti e tutte, di ogni nazione e popolo, di ogni etnia, perché il nostro bene dipende dal bene degli altri. Ecco, il profeta stesso fa uno sforzo immenso per trasmetterci una logica che poco ha a che fare con la nostra logica umana. Si tratta della logica di Dio che parte dal dono di sé, dal valore della gratuità che produce sempre frutti inattesi. Mentre la ricerca di beni e di stabilità conduce a una esistenza egoistica che esclude gli altri, la ricerca del bene comune ci permette di entrare in una logica, quella di Dio, che ci pone davanti alle altre creature, nostri fratelli, nostre sorelle, permettendoci di allargare il nostro orizzonte, di imparare a vedere oltre noi stessi, oltre il nostro naso, oltre i nostri tornaconti e scoprire così che c'è speranza, che non siamo soli nella fatica del nostro cammino e del nostro impegno di credenti. Ed è a questo punto che le parole del profeta sembrano emettere finalmente un sospiro, ma affermare anche questo. La vostra logica è semplicemente incapace di afferrare la verità e continuerete a inciampare nelle tenebre del destino che voi stessi vi siete fatti cadere addosso, a meno che non riusciate a cogliere con la fede la verità più alta proclamata dalla parola di Dio. Concludo. Per il profeta la parola di Dio è una realtà viva che diventa ogni giorno un fatto concreto vita, esistenza, sentiero, pace, giustizia, riconciliazione, condivisione, solidarietà. Solo a questa condizione i credenti possono riedificare la loro vita e la storia. Il ritorno dei credenti ebrei liberati dall'esilio, dal vuoto della loro esistenza diventerà una realtà. Sarà accompagnato dal prorompere di urla di gioia a cui si unirà la natura stessa in festa. Dice il profeta gli alberi batteranno le mani perché anche il creato sarà risanato e reintegrato nel progetto di pace e di giustizia di Dio. Amen. Padre, Padre, leggo il cuore e compito solo a te fra d'angoscia e d'angimone fra calabra che si oppone al santo in Dio. Padre, insegna a me la via che conduce il cuore al cielo di Dio. O Dio possa in vita mia rimanere a te fedele. Tu sei luce verità sei la forza a cui di Dio. Dio. Nell'immensa tua bontà oggi è assolto a questo grido della tua cremenza eterna di Dio. 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 fanno mio verità quando l'ora del patir giungerà per me tuo figlio tu mi aiuta nel soffrir sì mia morte è mio consiglio cari e cari vi invito adesso a concludere questo culto innanzitutto raccogliendoci nella preghiera di intercessione e pronunciando insieme nelle nostre case la preghiera per eccellenza che Gesù ci ha insegnato il Padre nostro preghiamo caro Dio tu sei amore e tu doni la vita a tutto il creato a ciascuno e a ciascuna di noi tu fai scendere la pioggia e la neve perché l'aridità dei nostri cuori sia trasformata e rinverdisca la pace la giustizia la riconciliazione fra i popoli e gli esseri umani tra loro dacci la forza di coltivare quello che tu hai seminato e di cui abbiamo bisogno per vivere permettici di dare la nostra testimonianza anche nelle situazioni in cui si continua a seminare intolleranza violenza divisione e odio benedici benedici l'opera e gli sforzi di tutti coloro che in ogni parte del mondo diffondono il seme della tua pace la tua parola fa che esso possa crescere e portare frutto nel nome di Gesù che ci ha insegnato a pregare con queste parole padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal male tuo è il regno la potenza e la gloria nei secoli dei secoli Amen vi invito adesso ad accogliere insieme una parola di benedizione che il vento nei vostri capelli vi porti il palpitare della vita che i vostri piedi lascino nella polvere orme di speranza che nell'oscurità voi odiate battere il cuore del prossimo che le vostre mani si protendano come porte che si aprono che le vostre labbra trasmettano quanto vi è stato dato di ricevere che le vostre orecchie colgano quello che le parole dicono solo a metà e la grazia del Signore vi accompagni anche là dove non vorreste andare Amen Avete ascoltato il culto evangelico valdese la predicazione è stata curata dal pastore Giuseppe Ficara Grazie a tutti